Finalmente al via i lavori al quadrivio Spina Santa, un'operazione che è durata diverso tempo, partita nel secondo semestre del 2015, subito dopo che entrammo in amministrazione, con la revisione complessiva di tutto il progetto che prevederà proprio in quest'area dove ci troviamo adesso e da dove iniziano i lavori, un'area che è stata espropriata a privati e che vedrà qui la realizzazione di un ampio parcheggio al servizio del quartiere e ad angolo la realizzazione di un parco giochi per bambini con una serie di piantumazioni di essenze erborea e mediterranee. Dopodiché il progetto prevederà ancora la realizzazione di un marciapiede che giungerà fino all'area dove verrà realizzata finalmente la rotatoria che come è noto avrà la funzione di decongestionare il traffico che in questo non quadrivio ma pentatrivio in determinati momenti della giornata si determinano. A seguire l'ulteriore intervento sarà la strada di collegamento con Madonna delle Rocche, la nuova chiesa del quadrivio Spina Santa per la quale nessuno aveva previsto una strada di accesso. Questo intervento completo realizzerà quindi tre cose, un parcheggio con aria giochi per bambini, la rotatoria per decongestionare il traffico e la strada di collegamento con la chiesa di Madonna delle Rocche.